Allora, buonasera a tutti, io sono Angelo Marotta del blog angelomarotta.blogspot.com nonché conduttore di Occhie la Notte, infatti stasera un nuovo puntato, un nuovo ospite abbiamo, non so se lo conoscete, ma molti di voi me l'hanno già nominato perché lo hanno sentito su Border Knights di Fabio, Fabio Fabretti, che salutiamo stasera con me c'è Francesco Raum, o frate Raum, iniziato, alto grado di diversi organizzatori pubblici, magici e massonici, ricercatori vicino a certi ambienti organici, dei servizi di intelligence privati e statali internazionali. Buonasera Francesco Buonasera a te Angelo e a tutti gli ascoltatori Benissimo, perfetto, allora iniziamo subito, intanto sai benissimo che ti ho contattato per avere delle informazioni che tu hai già dato, che sono uscite anche su Cronacavera, su Cronacavera che Fabio Fabretti aveva fatto gli articoli, nonché giornalista, e tu avevi raccontato alcune cose che vorrei, se ti piacerebbe che tu raccontassi anche ai nostri ascoltatori io ti lascio campo libero, vai in ruota libera, il tempo non è un problema, tieniti sull'ora e mezzo, va bene? Sì, 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 va bene, va bene, ti ringrazio Ti vorrò chiedere quando è finito poi il concetto Certo, certo, sentiti libero di interrompermi quando vuoi, io come dici tu facciamo una chiacchierata e vediamo di approfondire i temi che magari a te e anche ai tuoi ascoltatori sono un pochino più interessanti oppure cari. In relazione all'intervista che poi diede vita a quegli articoli di cui hai parlato con Fabio Fabretti, io riportai durante l'ultima intervista di Border Nights alla quale ho partecipato, quelle che erano le mie, come posso dire, memorie raccolte in diversi anni, fatte di confidenze di altri confratelli, fatte di indiscrezioni di personaggi interni a certi apparati, ma anche fatte di mie ricerche personali che ho voluto approfondire attraverso archivi, avendo l'accesso ad archivi sia di loggie massoniche coperte, ma sia anche degli ordini di cui faccio parte, quindi avendo la possibilità di consultare questi archivi ai quali non ha tutti dato accesso, ho voluto vedere se avessi trovato qualche cosa che magari avrebbe arricchito la mia visuale sul grande evento che viene chiamato Mosso di Firenze in un modo molto, molto, molto a mio avviso riduttivo. L'argomento centrale che in quell'intervista approfondì era il fatto che il Mosso di Firenze a mio avviso, per quello che io ho raccolto in una vita di, come ho detto prima, indiscrezioni e altro, è stata un'operazione, un'operazione che prima di svolgersi qui si è svolta anche in altri paesi, in primis negli Stati Uniti ed è stata un'operazione che rientrava in un periodo durante il periodo della Guerra Fredda in una serie di altre sperimentazioni che poi sono andate sotto il nome di strategie della tensione. La strategia della tensione più nota a tutti è quella che per molti comincia con Portera della Ginestra, per altri con Piazza Fontana, quindi tutte le bombe sui treni, strage di Piazza di Bologna, gli omicidi eccellenti, fino ad arrivare poi alla falange armata, quindi tutti questi eventi che nella popolazione avrebbero testato una tensione emotiva e uno sconforto, con l'intento che questi avessero poi chiesto allo Stato o avessero aspirato in maggioranza all'implementazione di un governo di tipo militare o comunque sia più autoritario, che comunque si avesse portato a un golpe bianco in Italia, come era già avvenuto in altri paesi per altre vie. Quindi questi vennero sperimentati diversi modelli di strategia della tensione, come abbiamo detto prima, quelli sono quelli delle bombe e quelli di questi eventi che rientrano nei quotidiani misteri d'Italia, ma poi ci sono tanti altri che per tanti motivi sono sfuggiti da quest'ottica e sono rientrati in un'ottica più dal punto di vista legislativo, criminale, non cospirativo. Una domanda, la strage del rapido 904 fa parte di questa strategia? Tutte queste strage fanno parte di questa strategia, alcune di queste strage poi sono state fatte in depistaggio di altre strage avvenute prima e quella che è nominata adesso è una di queste fatte per depistaggio, però rientrano tutte in questa strategia, in questa strategia rientrano anche i carabinieri ammazzati o gli assalti alle caserme, fatti anche perpetrati con la manovalanza di andrangheta o mafia, sempre tramite loggio coperte e membri legati alle versioni nera. Comunque un altro per esempio episodio molto molto grave della cronaca italiana che è rientrato in queste strategie della tensione è quello della 1 bianca, cioè la 1 bianca non era come tanti credono un gruppo di ex poliziotti o poliziotti, fratelli o attigui che decidono così dall'oggi al domani di fare qualche rapina ai caselli, ammazzano, usano le armi perfettamente militarmente per rubare quattro soldi ai caselli, alcune volte non rubano niente ma ammazzano, qui c'era una strategia ben precisa, tanti altri hanno partecipato a quelle azioni e non sono mai stati trovati e quindi come quest'altro tipo di azione che era un'azione di tipo, sempre di tipo per spaventare le persone in quanto le persone della Romagna erano terrorizzate, tu potevi andare al supermercato come al benzinaio ed essere freddato da questi killer spietati che arrivavano con la 1 bianca e non avevano paura di niente e di nessuno, ammazzavano carabinieri, poi c'era anche questa cosa che rientra in tutte queste strategie che si vede, il fatto che vengono presi di mira quasi sempre solo i carabinieri e non i poliziotti, anzi i poliziotti spesso e volentieri sono contigui a quegli ambienti che perpetrano spesso e volentieri attraverso le cellule di Gladio queste strategie, in queste strategie sono rientrati prima come dicevo di qui negli Stati Uniti la creazione di questi finti serial killer ai quali hanno partecipato più di una persona, sono stati organizzati nei minimi dettagli gli assalti e sono state scelte le personalità da colpire con preavviso e poi è stato messo subito un depistaggio che potesse depistare sia sul momento ma anche nella creazione poi dopo del caso, dandogli una direzione ben precisa. nello stesso tempo, scusate, nello stesso tempo cercare di controllare sia internamente quindi attraverso personalità affini a questo tipo di sperimentazioni, sia internamente quindi le indagini ma sia anche ogni singola azione, quindi venivano perpetrati, ora io come dissi quella volta qui nel mosso di Firenze, a parte sì è vero erano altri anni, adesso eventi del genere non sarebbe più possibile come infatti non è più possibile che possano avere una durata del genere, perché? Perché oggi come oggi tra le telecamere, i DNA, i droni, le modalità tecnico-scientifiche più avanzate, le indagini porterebbero subito sia che sia una cospirazione sia che non lo sia ad un colpevole o comunque sia servirebbe adesso oggi come oggi un quantitativo di conoscenze di persone in più del periodo di prima, quindi questo non ci piove, però anche in quel periodo questi eventi non hanno avuto precedenti. Sì, Francesco scusa, stai usando un auricolare? Mi senti? Sì, perché ora sì, prima non ti sentivo più. Ah ecco allora, dimmi se qualche cosa non l'hai sentito e la ripeto. No, no, vai tranquillo, vai tranquillo, ho cominciato a sentire abbuiato, poi ti sei fermato e ricominciato a parlare. Vai tranquillo. Ok, ok, perfetto. Allora dicevo sì, in passato ovviamente erano altri tempi, per questo tante insoluzioni, tante gaffe si sono verificate nelle indagini e si sarebbero potute verificare anche lì dove non ci fosse stata una cospirazione. Quindi questo è una cosa che bisogna tenere in considerazione e siamo tutti d'accordo. Ma una mole di morti del genere in una situazione in cui le forze dell'ordine venivano quasi sfidate, questo non è il primo caso perché Zodiac negli Stati Uniti aveva un modo superantisimile, infatti in più di una volta da più persone è stato collegato al mondo di Firenze, ma non solo Zodiac, il figlio di Sam, dove il figlio di Sam, quel signore che hanno arrestato, è poi stato provato nel tempo che lui non potesse aver preso parte materialmente a tutti gli omicidi e che c'erano altre persone coinvolte. Lui poi parlò di una cospirazione, si aprì con un giornalista, ci hanno fatto anche, ultimamente se qualcuno ha visto su Netflix c'è un documentario interessante che si chiama appunto I figli di Sam. In questo documentario vengono poi un po' seguite le piste che fanno capo come al caso di Manson, alle sette esoteriche, lì allora viene tirata in ballo The Process, secondo me lì la situazione è ancora più ingarbulita di quello che credo. Sì, persone che hanno partecipato a questi omicidi erano disadattati spesso o potevano essere anche persone perfettamente addestrate e lucide, però magari i capri spiatori venivano utilizzati in un omicidio o magari due e poi utilizzati e sacrificati. Questi tipi di persone venivano prelevati in questo humus di disadattati, di drogati che soprattutto nell'America in quel periodo, non ci scordiamo, questa è una situazione che tutte le persone dovrebbero un attimino tenere a mente quando si parla di questi casi ma anche investigare, ognuno nella sua testa. Un Manson che ci appare sempre descritto come un disadattato, un Ippi che aveva la comune lì, comunque sia, lui pochi mesi prima dell'evento è stato a casa di Polaschi, frequentava i Beach Boys, uno come Manson si mischiava con questa gente, anche prima, proprio alla pari quasi. Sì, c'era la droga che era un fattore agglomerante in quel periodo, infatti veniva utilizzata anche in altre sottosperimentazioni come il controllo della mente, eccetera. C'erano state diverse sperimentazioni fatte con l'LSD dove venivano presi appunto questi disadattati o persone che stavano in carcere o magari persone degli ospedali psichiatrici e vennero fatte poi le prime sperimentazioni di quello che poi divenne l'MK Ultra. Ma in quest'ottica il modus operandi ci si rivede più o meno lo stesso, cioè anche nel fatto del mosso di Firenze si trovano collegamenti e questi l'ho purati io anche poi per altre vie, perché io dopo quell'ultima intervista che abbiamo citato prima, Border Knights, venne anche contattato da un ragazzo che poi siamo diventati amici, un grande ragazzo, il fratello della Milva e lui mi disse delle cose, ci scambiamo delle confidenze e siamo entrati in confidenza e in amicizia. Ma queste persone, lì c'è una cosa che in tutti questi casi è come una linea fissa, come uno sfondo che è quasi anche più impensabile di oggi, forse per il periodo, è la commistione di personaggi di più diverse estrazioni sociali, più diverse professioni, più diverse mentalità, si ritrovano insieme ed hanno comprovatamente relazioni umane insieme. Noi qui troviamo prostitute di ultimo livello che hanno contatti con milionari, spacciatori che hanno contatti con milionari, drogati, uscimi di quartiere che hanno contatti con dottori, avvocati, giudici e magistrati. E in quest'humus che compare in tutte queste situazioni, nelle quali poi c'è sempre il fattore esoterico come una sottile linea rossa, che è come quasi un, come ti posso dire, io lo vedo come un amo, un'esca quasi, che possa collegare queste persone tutte. E allora poi tu in quest'humus che cosa c'hai? C'hai il ricco funzionale che può essere ricattato, perché magari ti ha partecipato dal festino, perché magari gli piace andare con le giovani senza di peggio, perché magari gli piace andare con i maschi. E all'epoca, si parla degli anni 60-70, Massimo, Massimo, i primi anni 80 in Italia queste cose potevano essere per una persona importante anche sintomo di ricatto. Ora tu dici, oh ma un è gay che gliene importa, ma all'epoca non è così semplice. Anche adesso, bravo, bravo, ma all'epoca soprattutto. Quindi è così, ci sa questa cosa che proprio si capisce che a mio parere le persone lì venivano spinte in certi gironi, tra virgolette, dantescamente chiamati infernali, nei quali poi rimanevano invischiati, in giri più grossi di loro, in delle regie, perché lì c'erano vere e proprie regie di persone lucide, raffinate, che erano al di fuori di tutte queste cose, al di fuori dei festini, al di fuori degli omicidi fatti in prima persona, al di fuori di qualsiasi situazione, ma ne erano l'allergia. E questi erano quelli veramente pericolosi, quelli che hanno gestito tutti questi, a mio parere, per le mie ricostruzioni, queste operazioni. E così in ognuna di queste operazioni la cosa fondamentale è che ci fossero più omicidi, quindi non c'è mai un solo, la mano di una sola persona. E poi in tutti questi casi non sono mai state reperite le armi del delitto. Le armi del delitto sembra come se ancora oggi fossero forse cimeli, armi di ricatto per qualcuno o prove ghiotte per altri che possono fare ricatti su altri ancora. Quindi questa è un'altra cosa da non sottovalutare. le armi di tutti questi casi non sono mai state ritrovate. Sono stati fatti il raffronte, sono stati ritrovati i boss, eccetera, eccetera, ma le armi in sé per sé, in tutti questi casi, non sono mai state... esatto. L'arma Calibro 22 non è mai stata ritrovata. Si dice che poteva essere quella del vigilante, quella di quell'altro, ma effettivamente ad oggi non c'è un'arma del mostro di Firenze. E questo ci dovrebbe far pensare, questo ci dovrebbe far pensare, perché voglio dire, anche se l'arma del mostro di Firenze fosse stata buttata, ma voglio dire, ma perché in tutti questi anni non si è stata ritrovata anche per caso? Magari dentro a un fiume, dragà? Cioè, voglio dire, no? Quindi secondo me qualcuno ce l'ha ancora, quell'arma, capisci? E se la tiene, e se la tiene... se la tiene come un tesoro, oppure magari come un cimedio. L'arma del mostro di Firenze, ad esempio, ora andiamo nella fattispecie con questo argomento, l'arma del mostro di Firenze potrebbe essere utilizzata anche come arma di ricatto contro qualcuno, giusto? Certo, ma arma di ricatto proprio, secondo me, è per chi la detiene. Se abbia la cognizione di causa di sapere quello che c'è dietro, anche solo una parte, quella pistola diventa comunque sia un'arma di ricatto, non per il singolo personaggio che eventualmente abbia potuto partecipare alle azioni del mostro di Firenze, ma per le istituzioni in sé che hanno preso parte o che ne hanno coperto le vere matrici. Capisci che ti voglio dire? Cioè, sarà probabilmente riconducibile a determinati equipaggiamenti, a determinati nasco, eccetera, eccetera, e quindi diventa di per sé un'arma che può diventare fonte di ricatto in qualsiasi periodo storico, a meno che non venga detta la verità prima. Quindi fino a dove c'è un segreto, qualsiasi cosa che possa inclinare a quel segreto e possa puntare il dito su qualcuno che ne ha preso parte, è quelli che diventa arma di ricatto, anche solo per i depistatori, pensiamo solo questo, il caso dei depistatori, i depistatori magari tante volte non avranno avuto neanche il quadro completo, queste sono persone che venivano magari chiamate, mandate a fare un lavoro di cui conoscevano, come ti posso dire, come posso spiegarmi, di cui conoscevano determinate coordinate, ma non avevano tutto il quadro completo, loro andavano, eseguivano certe cose, ma non sapevano il perché e il percome di quello che magari era avvenuto prima e coloro quali fossero coinvolti, per dirla tutto. Sì, è un po' come i killer della mafia, se sbaglio, che vengono... Bravo, ma anche lì, esatto, ma anche lì, anche lì, per esempio, sono stati provati, ora, c'è i killer della mafia che fanno questi attentati, che fecero questi attentati ai giudici, ai politici, i corlonesi, i bestiari, il papello di Riina, la trattativa stato-mafia, per come io l'ho ricostruita la cosa e per come quelle che sono le mie conoscenze e lì, più che una trattativa sul minuto all'attimo, lì ci fu una rivendicazione di un vecchio accordo che risale, secondo me, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lì dove gli alleati, grazie all'Achi Luciano, poterono sbarcare in Sicilia, avendo un supporto logistico da parte di questi mafiosi, che comunque sia Mussolini, aveva combattuto strenuamente mandandoli al confine, in prigione, eccetera, gli americani gli chiedono aiuto tramite l'Achi Luciano, avviene lo sbarco, dopodiché queste persone, una volta che il fascismo è finito e sconfitto, escono di prigione e vantano le loro ragioni con gli alleati che stanno ricostruendo nel frattempo l'Italia con il governo, quello di transizione, e lì vengono fatti degli accordi. Gli accordi che poi porteranno, e questo sono dati di fatto, queste personalità, quindi questi mafiosi della prima ora, li porteranno non solo all'interno delle nuove istituzioni italiane, a livello locale e regionale, ma li porteranno soprattutto all'interno delle forze armate, dei nuclei dei servizi segreti e di Stay Behind. È un fatto che tanti mafiosi siano morti anche i camorristi e i dranghetisti soprattutto, siano morti con il tesserino dei servizi segreti in tasca. Non erano tesserini finti di cui loro si erano appropriati tramite i servizi segreti deviati, perché i servizi segreti deviati è una favola, i servizi segreti sia istituzionale, ma è sempre istituzionale perché se non è una strategia della maggioranza di governo è portata sempre da un altro filone politico avanti. Quindi qualsiasi lavoro che i servizi segreti fanno, a parte il singolo che si può sbagliare, può essere corrotto il singolo, ma qui si parla di ingranaggi collaudati e di sistemi più che provati, nel fatto che queste persone siano state considerate più proficue per lo Stato, avendoci un dialogo con loro, anche perché comunque sia, parliamoci cari, anche effettivamente questi mafiosi quando avevano rapporti con le istituzioni, si parla prima del crollo della Seconda Repubblica, loro avevano comunque sia il controllo del territorio, quindi magari c'erano meno scippi, le persone erano effettivamente più sicure e in più svolgevano anche un lavoro proprio sociale perché davano da mangiare a quella piccola microcriminalità legata per esempio il traffico degli stupefacenti o prima delle sigarette. Quindi ecco, ci sono interi quartieri che si sono basati su un'economia nera fatta di queste cose e lo Stato tramite gli uomini di servizi segreti l'ha sempre saputo, l'ha quasi delegato. E quindi ecco che ritroviamo anche queste persone per esempio nel rapimento Moro. Nel rapimento Moro questo è stato anche provato ultimamente da una delle ultime commissioni sul rapimento Moro che uno dei killer che faceva parte anche di Gladio Stay Behind in Via Fani fosse, anzi il killer che avesse ammazzato proprio il presidente fosse De Vuono, un andranghetista, un boss dell'andrangheta che era anche un membro di Gladio e un membro anche del Sismi, del servizio segreto. Quindi ecco, quest'ora siamo usciti un po' fuori tema, perdonami. No, no, vabbè. Mi sono dilungato così. No, no, tranquilli, le buone informazioni sono sempre ben accette, stai tranquilli. Torniamo se è possibile, se non vuoi naturalmente continua pure con questo argomento. No, 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 dimmi, se c'è qualche domanda mi riporti tu. No, no, allora io praticamente da come tu hai spiegato fino adesso ho capito che io, sai, vado sempre sull'argomento principe secondo me che è il mostro di Firenze, che secondo me alcuni omicidi o tutti, io questo l'ho capito poi sarai tu a spiegarlo bene, sono stati un po' come una sorta di, non mi viene la parola, di distrazione rispetto verso altre cose, giusto? Bravo, questi omicidi servivano nel momento sia come strategia della distrazione da altri eventi che succedevano consecutivamente e che quindi servivano, erano utili a distrarre l'opinione pubblica, ma anche come sperimentazione di deterrenti psicologici che effettuassero sulla popolazione e a livello locale o nazionale un elemento di stress, l'elemento di stress infatti crebbe perché c'era la paura di questi giovani, di queste giovani coppiette che guarda caso come nel Zodiac e anche nel figlio di Sem dove sono la maggior parte coppiette che si appartavano la sera comincia a nascere il terrore, quindi i genitori non vogliono più che i figli vanno fuori ed escono magari la sera o più tardi e dicono no, no, magari è stata a casa, quindi queste strategie portavano poi una risposta proprio concreta nella vita di tutti i giorni della popolazione e venivano studiate come deterrenti o armi diciamo non letali psicologiche che potessero essere usate sia per distrarre la popolazione ma sia anche che per pilotarne l'umore, diciamo l'umore quindi anche la situazione. Guarda ora io ricostruivo proprio l'altro giorno. Una delle cose più curiose che appunto ci dovrebbe far capire anche solo da questo che l'evento del mosso di Firenze non è, non può essere un evento come ce l'hanno raccontato poi ancor meno legato ai compagni di merende che non erano capaci nemmeno, non lo so, un cinghiale. Qualcuno dei miei contatti salterà perché sono estremamente convinti che siano stati appunto Pacciani, Vanni e Lotti. Guarda ti dico, io rispetto tutto, rispetto a tutti. Ci può essere anche una verità, una verità giuridica ma ti dico che se Pacciani, Vanni e Lotti avessero fatto quello che hanno fatto e fossero riusciti a farli io avrei tre palle e sarei un flipper. Cioè capito? Te la dico così, capito? Ridendo. Ecco, comunque ti ripeto, col massimo rispetto di tutti, anche le mie soltorie che hanno la stessa validità delle altre, non è che voglio levare niente a nessuno, però ti dico la mia. Per carità, sempre nel rispetto di tutti. Tu sai che... Sì, per carità, io dico la mia storia, poi ognuno ci fa quello che gli pare, se ci vogliono ridere sopra, meglio, almeno ho fatto ridere qualcuno. Allora dico, no, per dire, per carità, per dire, no? La stessa cosa vale per gli altri. Dico, vedevo per esempio l'altro giorno facevo un ragionamento tra me e me, per un motivo che ora non sto qui a ripetere perché non è indelente alla situazione, ma pensavo alle morti, solo che hanno... si sono apparsi intorno, diciamo, al mosso di Firenze. Allora, poi morti, morti parecchio strani, che neanche la sincronicità più assurda potrebbe realizzare tante volte. Allora, penso, c'era uno, un poliziotto, no? Parisi, che era, mi sembra si chiamava Parisi, di cognome, era di servizio alla stazione di Terontola. Una sera, ai tempi del mosso di Firenze, era in servizio di notte, ferma, una macchina, con un individuo dentro, che dice lui, sembrava insanguinato. Insomma, questo scappa dal polso di blocco, lo inseguono e riescono a fermarlo. Lo fermano e pare che questo, insomma, ci avesse, ecco, dei vestiti sporchi di sangue, fosse agitate, eccetera, e avesse testato immediatamente dei sospetti in uno di questa coppia di poliziotti, che si chiamava, appunto, Parisi, mi sembra, e decide di comunicarla al suo superiore, al magistrato, chiama, dice, guarda, dice, così, eccola, dice, questa persona, gli sarebbe opportuno che si facesse una perquisizione nell'abitazione di questa persona, così, eccola. Dice, vabbè, aspetti e alla fine gli negarono il permesso. Questa persona sparrebbe essere comunque a scorta. E va bene, lui, questo Parisi va e fa tutta una sua guerra, insomma, interna per cercare di dire che questa persona poteva essere implicata, eccetera, eccetera, in certe vicende. Non si sa, io questo, non ho appurato se qualcuno poi appurò e trovò dei reperti oppure non si face mai questa perquisizione, ma insomma, questo Parisi alla fine sembra che sia stato messo da parte e gli sia stato detto, guarda, non rompere scatole e fatti i fatti tuoi. Poi passano tanti anni, nei primi anni del 2000, la Lioce muore nel treno fermata a Perugia dove c'era questo Parisi. Parisi nel conflitto a fuoco viene ucciso. Un compagno del Parisi, il collega della Polfer che stava insieme a Parisi, si suicida pochi mesi dopo ecco. E dice che lui aveva detto, che dice che sulla storia anche dell'arresto della brigadista Lioce, eccetera, eccetera, dell'omicidio del Parisi non era stata mai detta la verità. Ok? Quindi, e si collegano a un altro suicidio, questo l'hanno trovato suicidato. Il Parisi è ucciso dalle Brigade Rosse. E come questo, tanti altri casi, ora voglio parlare per mezz'ora, ci sono stati di persone inerenti al mosso di Firenze che sono morte, come anche la Milva, il figlio Leto, persone che hanno fatto queste fine qua, no? Che singolarmente tante volte uno in esso non può vedercelo. Ma se sai tutti i diversi fatti, non puoi fare a meno di di ma... ma ragazzi, cioè, voglio dire, è come il Covid, no? Se metti uno di Covid dentro una stanza, 100 se lo prendono, ok? Dici, va bene, se non se lo prendono 100, se lo prendono 50, va bene, 30. Ma voglio dire, un po' non prende solo nessuno, no? Se il Covid esiste, è così. Dicono, qualsiasi malattia, l'influenza, quello che è. Ora ho fatto un esempio, non mi metto a entrare su questi argomenti che non mi competono. Quindi, dico, ecco, per dire, come è possibile che tutta sta gente, anche se tra di loro possono aver avuto le loro storie, le loro miserie, le loro grandezze, aver fatto i loro fini, come è possibile che tutte quante alla fin fine siano collegate da sta sottile linea rossa? Capito? Questo è anche interessante. Perché poi non è la stessa cosa che è successa qui. Io invito gli ascoltatori che abbiano interesse di questi argomenti, così, a vedersi, che conoscano magari già bene il mosso di Firenze, a vedersi quel documentario che dicevo io su Netflix, I figli di Sam. Ecco, se lo vedessero, perché lì tu vedrai che c'è un sacco di gente che subito dopo muore con suicidi e strane cose, persone che si diceva che facevano parte di sette, che avessero preso parte a questo, a quell'altro. Come venivano nominate, scomparivano. E la stessa cosa dopo è avvenuta con il mosso di Firenze. Io non so se queste persone avessero fatto qualcosa, fossero semplici, stupidi idioti funzionali a qualche quadro, eccetera, capisci? Però ti dico, le sincronicità assottante, mi sembra anche stupido non sottoporre l'attenzione di chi vuole capire il caso. Certo, ricordiamo Malatesta, che fu trovato impiccato, piuttosto che Francesco Vinci, che fu trovato carbonizzato dentro la sua auto insieme al posto. Quindi sono tutte cose che, per esempio Malatesta, dicono perché io non ho visto la documentazione, quindi parrebbe, dico anch'io come te, parrebbe che lo avessero trovato impiccato con i piedi a terra. Sì, bravissimo, ma tanti, ma è la stessa cosa di Ustica, stessa cosa di Ustica. Quanti ce ne so di ufficiali che erano alle torri di controllo militari che poco prima di andare a fare le deposizioni sono stati trovati morti, attaccati al portasciugamano della vasca, in ginocchio, impiccati? Oppure addirittura, e qui si va quasi nella fantascienza, qui ti fa capire l'alto livello, due piloti si sono scontrati con due, sono andati a fare frecce tricolori in Germania e si sono scontrati tra di loro durante l'esibizione delle frecce tricolori e dopo pochi giorni avrebbero dovuto testimoniare. Cioè, voglio dire, quante so le possibilità che tutte queste persone collegate con questi eventi morissero? Eh, ma so tantissime, se dici le persone muoiono, d'accordo, però dai. No, faccio un esempio, c'era una prostituta di cui è venuto a fare il nome che avrebbe dovuto, ma tanto poi chi segue la vicenda del mostro sa, saprà di cosa sto parlando, che avrebbe dovuto testimoniare qualche giorno dopo contro uno degli indiziati del mostro di Firenze e fu trovata ammazzata, diciamo, in casa sua. No, ma ci fu poi anche un momento in cui si pensò che il mostro di Firenze ammazzasse anche le prostitute e ci fu stata appunto tutta una serie di prostitute che anche lì venivano ritrovate morte, poi si fecero degli identikit, vennero fuori questi identikit di questa persona un po' grassoccia con questi capelli spettinati che poteva ricondurre, l'immaginano dell'ottico, la stessa macchina. E questo ti ho chiesto. E poi se invece era quell'altra rossituta dell'indovino, questo forse non ho capito bene. No, allora io sto parlando della Mioni. Ah, sì, sì, ho capito. Sarebbe dovuto andare a... Sarebbe dovuto andare, scusate, a titolare contro un personaggio di cui non voglio fare il nome, ma te lo dico dopo. Sì, vabbè, ma questo lo so, lo so, lo so chi è. Ok, quindi poi anche lì... No, la cosa che io ho sempre pensato... Sì, sì, certo. Non voglio andare nel complottismo più becero perché le cose fino a si possono riassumere in un modo. Cioè, è vero che, come dici tu, è possibile che questi muoiano tutti, cadano come funghi tutte le volte... Cioè, bravo. Ma poi non lo so, non so se proprio... Guarda, una decina di giorni fa, massimo 15, non di più, di domenica, dove è stata ammazzata i due francesi, Nadine Moreau e quell'altro ragazzo, è stato rifatto ultimamente un rilievo. La polizia scientifica è andata coi droni lì, hanno rifatto dei rilievi per vedere certe cose. Poi non hanno rilasciato più di tanto, insomma... No, infatti non è più stato... No, poi l'avevo caricato anche io sul canale, avevo caricato i servizi che furono fatti qualche giorno fa, appunto, come dicevi tu, di questi rilevamenti che a quanto pare ci vogliono far credere. Poi non lo so se è vero che servono solo e esclusivamente per la ricostruzione di un docufilm. No, la cosa che mi sembra strana è che, te lo dico anche a te, che viene scomodata la polizia scientifica per un docufilm. Non credo che la polizia partecipi ai docufilm. Quel giorno che la polizia si metterà a fare il regista e il cameraman per i docufilm col drone, allora sarà il giorno che veramente... Sì, senti Francesco, vabbè, mi sembra che tu sia stato molto chiaro. Io ti voglio fare almeno un'ultima domanda, se per te... Vai, vai, qualcosa come vuoi, dimmi. Allora, la cosa che io ho sempre pensato, poi vabbè, io ho un nome, come dire, nel mio collettivo immaginario, vabbè, non è corretta quella frase, ma non si capirà. Io ho sempre pensato che gli omicidi del mostro di Firenze, come i fatti della Uno Bianca, siano stati proprio, diciamo, attuati durante gli anni del terrorismo nero. Certo. Allora, una cosa che io ho pensato, è un fatto inoppugnabile, che morti ci sono state, e con questo non c'è ombra di dubbio, perché poi ho sentito persone che mi vengono a raccontare, e mi fanno anche cazzare, c'è in certi aspetti, scusa la parola, che secondo alcuni non esistono nemmeno i morti, vabbè, questo lasciamola... Vabbè, questo, qui siete col protismo becero di quelli che proprio vedono, c'è, le cose... Io ho sempre pensato che alcune cose fossero concatenate, appunto si torna al discorso che facevi tu, no? Dicevi che alcune cose, per distrarre magari, ora faccio un esempio, il terrorismo, per nascondere tra virgolette il terrorismo, magari si passava all'uccisione di alcune persone. Ecco, quindi poteva anche... io mi sono sempre associato... Poi magari non è vero, magari è un... No, 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 ma sicuramente c'era, sicuramente in tutti questi casi, anche da quello della Uno Bianca, a tutti questi casi di questi pseudo serial killer, sia in Italia che all'estero, c'è sempre stato un grande elemento di disinformazione, che negli Stati Uniti fosse stata la guerra del Vietnam, nel caso del figlio di Sam, o di altri, o fossero state altre cose, questo è assodato. C'è poi un altro livello che andrebbe tenuto in considerazione, che è il livello dell'identità delle vittime. Ora, ha una personalità esterna che conosce solo tramite media, che poi comunque sia, come sappiamo, oggi come ieri, vengono distorti a piacimento del pensiero, quello che viene chiamato il pensiero unico, o comunque sia la narrazione, diciamo, principale, che viene dettata un po' dai organismi, da quelli che sono i poteri, i poteri del momento, i poteri forti. E in quest'ottica anche sapere le connessioni e il ruolo che magari svolgevano non direttamente le persone implicate nelle vittime, come vittime negli eventi, ma magari il genitore, il fidanzato, il cugino, lo zio. E anche lì si ricostruisce un quadro che, ad un occhio più attento, io, come ti dicevo, sono uno studioso che ha anche collaborato, ha amicizie nell'intelligence, sia quella privata, soprattutto quella privata che si è creata dopo l'11 settembre, che prima era un agenzio di intelligenza che lavoravano per le multinazionali, più che altro, dopo l'11 settembre, soprattutto dall'America e poi in Europa, vengono statalizzate, gli vengono date, diciamo, delle commente, degli appalti per alcuni lavori e quindi diventano persone che gestiscono l'intelligenza, alcuni comparti dell'intelligenza del Paese. Ecco, grazie a queste persone, queste confidenze, alla collaborazione di queste persone, in più di una volta, ho ricostruito che l'identità di queste persone non era estranea ad altri casi importanti. Allora, per esempio, troviamo l'armatore che aveva partecipato a, diciamo, a certi approvvigionamenti con paesi arabi. Troviamo quello che, come, faccio un esempio, negli stessi anni, o no, un pochino dopo, sparì un tecnico vicino Roma che si dice, si è sempre detto che si è stato rapito dai servizi segreti iraniani e irrakeni per delle armi teleguidate, per gli armamenti. Bravo, bravissimo. E questa persona, come questa persona prima, i parenti, per esempio, il padre partecipava nella creazione, era un armatore di navi, alcune di queste, diciamo, commende che avevano avuto dallo Stato riguardavano compartimenti segreti e armamenti segreti. Quindi anche la conoscenza di quali navi avessero montato su determinati armamenti o determinati sistemi di difesa o deterrenti, poteva comunque sia diventare, non di commercio di scambio, ma in un'ottica internazionale, un motivo, diciamo, di scelta di alcune pressioni che potevano essere fatte sul singolo come su altri. Quindi ecco, si crea poi, se tu vuoi analizzare caso per caso, singolarmente, un'altra strana mappatura di personalità contigue o molto vicina a queste famiglie che comunque sia erano persone, tra virgolette, sensibili per il periodo storico in cui i casi avvennero. Ma come questo, in tutti gli altri casi, cioè qui, anche quelli della strategia dell'attenzione legata al coinvolgimento della mafia con la falange armata, la falange armata la ritroviamo anche nella 1 a bianca. Beh, la falange armata è un caso molto, molto particolare perché comunque sia è stato provato che la falange armata era rivendicazioni fatte da persone di servizi segreti e da mafiosi contigli a questi ambienti. Sono state fatte sia dall'interno delle carceri sia dall'esterno delle carceri rivendicazioni che venivano fatte telefonicamente o tramite lettere mandate ai giornali. Per esempio, per anche gli eventi stragisti, quelli del 92, del giudice Falcone e Borsellino oppure quelli delle bombe al Belabbro oppure a Firenze, eccetera. Ecco, in tutto questo sembra scollegato ma c'è poi alla più infine dietro come una mano, un'ombra diciamo, più che una mano che ha mosso e ha sapientemente creato delle condizioni quasi alchemicamente. Che significa alchemicamente? In alchimia si tenta sempre di trasformare qualcosa che è vile come un metallo vile in qualcosa di più raffinato. quindi si può trasformare qualcosa di negativo in positivo o viceversa e così su una scacchiera diciamo internazionale o nazionale di geopolitica applicando questi concetti alchemici è capace creando delle crisi che siano locali che siano nazionali o internazionali suscitare degli effetti che poi portino ad una tua diciamo volontà che sicuramente ai tuoi occhi sia la raffinazione di quella situazione primogenita primigenia se vogliamo essere più accurati quindi questo è quello che io nella mia ora diciamo in poche parole poi potremo approfondire se avrà interesse più avanti potremo anche trovare degli articoli pubblicare pubblicare dei documenti eccetera senza ombra di dubbio però ecco ti dico io quell'idea che mi sono fatto è questa adesso poi senza entrare nel dettaglio di diverse cose poi tutte le come ti posso dire tutte le teorie tutte le verità hanno sicuramente la loro importanza e hanno il loro peso io racconto solo la mia storia niente di più niente di meno io credo che non ci possa essere stato finale migliore di questo allora io Francesco ti saluto e ti dico che quando vuoi venire qua in trasmissione da me non c'è alcun problema sei sempre benvenuto ho visto anche la pacchetezza ai toni in cui racconti le tue cose a differenza di altri che litigano si incazzano la giusta informazione debba essere fatta tanto con il cuore e poi con appunto come dicevo prima con la giusta pacatezza ma anche con la leggerezza voglio dire tanto la sinfine esatto esatto anche poi litigare tanto sicuramente sono argomenti pesanti esatto poi voglio dire tanto ci arrabbiamo tanto nella vita esatto dovremmo essere un pochino ecco quando facciamo chiacchierate il giorno dovremmo essere un attimino un pochino più rilassati